Ciao a tutti Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di Polizia Municipale di Torino Buon venerdì 26 giugno, le notizie di oggi Dalle 13.30 circa al Teatro Carignano, Assemblea Generale di Federmeccanica Festival internazionale Orredità Popolare Sino a domenica le piazze Carignano, San Carlo, Carlo Alberto Le vie Cesare Battisti, Accademie delle Scienze, il cortile di Palazzo Carignano Diventeranno una vera e propria cittadella dell'oralità popolare Dove la cultura volatile verrà sviscerata e proposta in tutte le sue forme Quarta edizione, oggi orario 15.24 Nel tardo pomeriggio in Duomo Santa Messa ufficiata da sua eminenza reverendissima al Cardinal di Torino Severino Poletto Per la chiusura dell'anno Paolino Processione Parrocchia San Paolo Apostolo alle ore 21 da via Berino Strada Provinciali Lanzo e via Sandro Divieto di transito in via Aquila, angolo via Capua per lavori edili E' tutto, buona giornata, buon viaggio Grazie Walter Gerbi Vediamo adesso le previsioni del tempo Secondo i dati dell'ARPA Piemonte Il tempo per oggi sarà poco nuvoloso In questo momento è tornato a splendere il sole Dopo il lumi e fragile di questa notte Le previsioni sono di tempo costante Poco nuvoloso per tutta la giornata La temperatura in questo momento è sui 20 gradi centigradi L'umidità è al 79% Stiamo adesso uno sguardo agli appuntamenti istituzionali della città Per la giornata di oggi Dalle ore 9 a Palazzo Civico In sala del Consiglio Comunale E' in corso la cerimonia conclusiva del Master in Peacekeeping Sempre dalle 9 in sala dell'Orologio Si è riunita la quinta commissione consigliare Presa da Luca Cassiani All'ordine del giorno la fondazione ISI L'istituto per l'interscambio scientifico E l'approvazione delle modifiche dello statuto Con la conferma di adesione della città di Torino Sempre dalle ore 9 a Palazzo Civico In sala rossa Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castronovo Partecipa alla cerimonia conclusiva Del Master in Peacekeeping Come abbiamo già detto Alle ore 11 in sala dell'Orologio Si riunisce la prima commissione consigliare Presa da Gioacchino Contrò All'ordine del giorno Terreno comunale in strada superga Angolo via Bocca La realizzazione della centrale termoelettrica Per la nuova rete di teleriscaldamento Della zona di Torino Nord La ridelimitazione dell'elettrodotto A favore della società Terna SPA Per la variante della linea Leili Pianezza E il Virtual Reality e Multimedia Park SPA Proposta di ricapitalizzazione della società Alle 14 in sala Capigruppo Conferenza dei Capigruppo E sempre alle 14 in sala Capigruppo E sempre alle 14 in sala Capigruppo Al Teatro Canegliano Assemblea Generale di Federmeccanica Diamo uno sguardo adesso All'home page della città Bagno di Folla Il 24 giugno Per il tradizionale spettacolo pirotecnico Che ha celebrato l'edizione 2009 Della festa del Santo Patrono San Giovanni 100.000 persone in festa Hanno gremito ogni centimetro Intorno a Piazza Vittoria Lungo Po e Murazzi Potete vedere le immagini della serata Collegandovi al fotoblog della città Dove vedrete anche le immagini Della fiaccolata sul Po e del Palio Di San Giovanni Siamo in chiusura Diamo quindi uno sguardo Alla città Attraverso l'occhio Delle nostre webcam Ci colleghiamo come di consueto Con Palazzo Civico Dove vediamo il sole Illuminare il Conte Verde Quindi passiamo Alla visione Della Mone Antonegliana Grazie alla webcam Della regione Piemonte Ci spostiamo qui Sulla rotonda Nell'autostrada Torillo Milano Traffico tranquillo E per finire Rotonda Maroncelli In alto a sinistra Corso Unità d'Italia In alto a destra La rotonda In basso a sinistra Corso Trieste E Corso Maroncelli In basso a destra Per quest'oggi È tutto Per questa mattina Scusate tutto L'appuntamento Con la notizia del web Della città Ritorna oggi pomeriggio Alle 16.15 Dove vi aggiorneremo Anche sulle novità Presenti nel settimanale Di Torino Web News Che esce Questo pomeriggio A tutti Una buona giornata Questa è un programma Questa è un programma Di Torino or Armini Rip 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 Grazie a tutti.